Hanno dormito nel portico del complesso San Michele a Fano per tutto l'inverno, sollevando non poche polemiche da parte di cittadini e di alcuni nostri telespettatori, che proprio giovedì scorso avevano sollevato nuovamente il problema. Non è un bel vedere, ci avevano scritto, né per i ragazzi che frequentano l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bocchia, sede nel palazzo, né per chi transita in Viarco d'Augusto, la porta cittadina, simbolo di Fano. I due, un uomo e una donna, continuano infatti a stazionare con il loro cane sotto le arcate e a volte anche su una panchina del Pincio, senza che qualcuno sia riuscito ad allontanarli trovandogli un'altra sistemazione. Segnalazioni per schiamazzi e per la situazione igienico-sanitaria sono arrivate al Comune, sia da parte di Fanesi sia dal Rettore dell'Università, che ha chiesto di prendere provvedimenti il prima possibile. L'assessore ai servizi sociali, Marina Barnesi, assicura che l'amministrazione e la Polizia Municipale stanno lavorando per risolvere il problema, tant'è che venerdì scorso si è svolto un incontro per decidere in quale modo intervenire. La proposta ha fatto una verifica anche con l'opera Padre Pio, il centro di accoglienza che qui abbiamo a Fano, sulla disponibilità ad accoglierli, la disponibilità c'è stata data, quindi abbiamo riferito ai vigili di fare un altro intervento, cercando di insistere sulla necessità di trasferirsi in un'altra sede. Ma il problema è che la coppia oppone resistenza, perché il centro di accoglienza Padre Pio non potrebbe ospitare il loro animale, ma non solo. Come racconta l'assessore Barnesi, la vita dei senza tetto a volte non è legata ad una mancanza di abitazione, ma spesso è una scelta di vita o una presa di posizione. Per cui se non riusciremo nel giro di pochi giorni, passate anche le festività pasquali, a trovare una soluzione, probabilmente dovremo mettere in atto un altro piano, più deciso, in collaborazione anche con le forze dell'ordine e anche le organizzazioni di volontariato, perché ovviamente noi preferiamo trovare delle soluzioni concordate.